Continuano le sospensioni dei medici Novax da parte dell'ordine della provincia di Avellino. Dopo la seconda ondata ne arriverà una successiva, ma il presidente Sellitto si dice soddisfatto ricordando che siamo al di sotto della media nazionale e sollecitando comunque alla prudenza in questa fase. Abbiamo esaminato quasi 180 persone, ne abbiamo sospese 51 complessivamente, 27 la prima volta, 24 queste. Della prima volta però 9 colleghi hanno già provveduto all'obbligo vaccinale, quindi li abbiamo riammessi immediatamente in servizio. Pertanto 51 meno 9, credo siano 42 gli attualmente sospesi. Non sono un numero, anche se può sembrare un numero elevatissimo, però in effetti se andiamo a considerare sul numero degli iscritti, che sono quasi 3.200, si riduce tantissimo. Di questo mi soddisfa molto, perché vuol dire che nel corso dei mesi i nostri appelli poi sono stati ascoltati. Chiaramente ci arrivano flussi continuamente dal Ministero della Salute, anche stamattina è arrivato un altro, con altri 5 nuovi non vaccinati che stiamo provvedendo ad avvisare, lo abbiamo già fatto tramite PEC, li contatteremo anche telefonicamente in modo da spingerli a vaccinarsi e ad evitare la sanzione. Alla fine siamo al di sotto della media nazionale, molto al di sotto della media nazionale. Medici sospesi dall'ordine, che però potrebbero, ed è qui che entra in gioco la beffa del sistema, ancora esercitare, se in maniera scorretta chi viene fermato dall'ordine stesso non comunica la sospensione al datore di lavoro o chi esercita in maniera privata continua a operare. In teoria dunque i medici Novax potrebbero continuare a esercitare l'ordine e non può intervenire perché non ne ha la competenza.